Ciao a tutti ragazzi, questo è il primo video serio che carichiamo, in cui vi faccio vedere la pick-up che abbiamo moddato, faccia di Osvaldo Paniccia e i suoni personalizzati. Inizio il video chiedendovi scusa per la buzzorità del video, dato che ho portato il tablet in galenzia perché ho perso il root e quindi il tele-rom custom e quindi non posso registrare con uno screen recorder ma sono obbligato a farlo con una fotocamera. Ho provato a farlo da Bluestark, ma sfortunatamente non si sentono i suoni degli speaker che hanno programmi tipo Fraps, anche perché Fraps sul mio computer non gira tanto bene, ha dei problemi. Persione AVI. Allora, il gioco è questo qua, c'è il link nella descrizione. Per installarlo, se avete un telefono Android... Basta scaricare il file apk, metterlo sull'SD card, poi aprire un file manager tipo questo e andare sull'SD card, cliccare sull'applicazione che ha un'icona tipo questo, cliccandoci sopra si installa. Dovete sbloccarlo nelle impostazioni, se no non ve li fai installare. Sicurezza, dovete attivare questo, sorgenti sconosciute, poi potete installare tutti gli apk che volete. Iniziamo col far vedere il gioco. Sfrappi Osvi, non tappare qua, anche perché se tappate vi faccio vedere cosa succede. E' proprio bello quella, balsiasi. E' una puttana! E' un gioco di merda! E' proprio bello quella, metà con un sbaldo. di bronzo il gioco è questo e mi raccomando mettete mi piace iscrivetevi se volete vedere altri video da pick up moddati ne stiamo facendo un altro ovvero io sto moddando il clean racing Giuseppe Simone faremo un altro con un cazzo si chiama con angry birds comunque spero vi sia stato utile e per la visualizzazione state in pace